Pazzini all'indietro La conclusione di Aguilani per la loro Gli dà il vantaggio con il batto Aguilani Ha aperto Aguilani Ha portato l'Italia sul suo lino Alla trentattesimo Vantaggio inaspettato Sì, non ce l'ha spiegato Hanno aperto Panna loro Nella propria metà campo Recuperato Valotelli ha allargato Grosse, sono molto Già lo Pazzini ha da pensare La conclusione di Aguilani La leggerissima Degiazione ma importante La direzione c'è come In un primo momento sembrava leggera Invece il pallone Pallone